Anch'io ho giusto un piccolo contributo per manifestare la vicinanza dell'organizzazione che rappresento alla CGL, ad Attilio, a tutti i compagni, a tutte le compagne che sono qua presenti oggi e questa presenza dimostra che possiamo essere noi gli attori del cambiamento. Il Paese ha bisogno di questo cambiamento, ha bisogno del contributo di ciascuno di noi, è finita l'epoca dell'individualismo, bisogna ritornare all'epoca della collettività, del riscoprire che insieme si può e allora anche da Novara credo che debba alzarsi alto il grido che bisogna resistere, bisogna riportare questo Paese ai valori che l'hanno fondato e che hanno visto tanti uomini e tante donne negli anni della resistenza perdere la vita in ragione di un unico principio che è quello della libertà di cui oggi noi possiamo godere e che dobbiamo continuare a poter godere per sempre. Quindi viva CGL Cislewil!